Con il via libera dato all'unanimità dalla quinta commissione del CSM, al giudice Gianni Macchioni s'avvia verso la conclusione l'iter di nomina del presidente del Tribunale di Verbania. Il posto è vacante da due anni, da quando Luigi Montefusco andò in pensione. A reggere l'incarico è stata Donatella Banci Buonamici, già presidente della sezione penale, poi trasferita alla Corte d'Appello di Milano, e ora il compito è di Rosa Maria Fornelli. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.